Estoria 2021, 17esimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Clio. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria, con il patrocinio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, qui vi invitiamo ad aderire. Sta per iniziare l'incontro intitolato Franz Xaver Messerschmitt e l'arte come terapia. Intervengono Cristina Bragaglia, Antonio Perciaccante, coordina Alessandro Quinzi. L'incontro è in collaborazione con Fondazione Palazzo Coronini Cronberg Onlus. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Scrivendo messaggio via Whatsapp o Telegram al numero 331 168 2969 è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti! Grazie, ben trovati in questa giornata inaugurale del Festival Estoria. Passo subito a presentare i due relatori di questa mattina. Alla mia sinistra Cristina Bragaglia, come penso tutte ben sappiate, lavora alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg. Possiamo dire l'anima anche e soprattutto delle attività espositive. Attività espositive che si susseguono con cadenza regolare ogni anno e indagano da diversi punti di vista quello che è il patrimonio che il conto ha lasciato alla città. Fanno parte di questo patrimonio, sono legate anche indissolubilmente al conto Guillermo Coronini e anche le due teste di Messerschmitt che sono esposte appunto alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg. Dialogherà con Cristina Bragaglia, il dottor Antonio Parciaccante, medico, laureato a Roma dove si è specializzato anche alla sapienza in medicina interna. Attualmente lavora appunto a San Giovanni di Dio come medico internista sia nel reparto di medicina sia nel reparto di diabetologia. Accanto a questa sua professione medica ha ampliato lo spettro della sua attività andando a indagare anche la storia della medicina, dell'icono diagnosi, scusate, della paleopatografia e della paleopatologia. Tutti i termini che affronteremo tra breve insomma andando a indagare con l'occhio clinico di un medico le opere d'arte e anche le biografie degli artisti. E quindi contribuendo in realtà a mantenere vivo l'interesse a arricchire quella che è l'interpretazione delle opere d'arte da un altro punto di vista con un'altra interpretazione e quindi approfondire appunto le nostre conoscenze in materia. Mi piace ricordare che si è occupato in quest'anno appunto di Dante Elighieri e della Divina Commedia su cui interverrà la prossima settimana a Firenze, domani a Firenze ecco, sulla querel sui presunti resti di Caravaggio. Oggi invece parlerà appunto delle teste di Messerschmid. A mo' di introduzione appunto a questa mattinata chiederei subito a Cristina di presentarci, di fare una carellata, una panoramica a volo d'uccello su Franz Xaver Messerschmid, sulla sua vita, sulla sua arte. Sullo schermo scorreranno durante la conferenza anche le opere di cui Cristina ci parlerà. Lascio a te la parola, grazie. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. La fama di Messerschmid è legata principalmente a quelle opere che sono state poi chiamate teste di carattere, che sono una serie di, al momento, 44 teste, le uniche al momento di cui si conosce l'ubicazione, teste che offrono una vastissima gamma di espressioni, dalla calma più serafica e alle smorfie più esagerate e grottesche. Ebbene, appunto la fama di Messerschmid è legata a queste opere e che fin dal momento successivo alla sua morte hanno subito comunque colpito l'attenzione che per i decenni successivi hanno colpito per la loro forza, ma appunto la loro forte espressiva perché in qualche modo anche, diciamo, offrono una... sono opere che colpiscono, che creano anche disagio a chi le guarda. Per questo, per molto tempo, ci si è interrogati, ci si è posti due domande fondamentali. Per quale ragione Messerschmid realizzò queste opere e qual era il loro significato per l'artista? Sono risposte a cui probabilmente sarà impossibile dare una risposta assolutamente certa perché l'artista stesso non ha lasciato nessuna indicazione in proposito. Quindi gli storici, gli storici dell'arte, non possono fare altro che cercare di trovare una risposta analizzando la vicenda biografica di Messerschmid e le testimonianze lasciate anche dai suoi contemporanei. E per questo cominciamo appunto a vedere quella che è la vicenda biografica di Messerschmid. Una vicenda biografica che in realtà, diciamo, nella prima parte della sua vita non mostra alcunché di particolare e il suo percorso è assolutamente quello tradizionale che compivano tutti gli artisti all'epoca. Nasce infatti in un piccolo paesino, allora in Baviera, Wiesentag, da una modesta famiglia e dopo la morte del padre, con il fratello e la madre, si trasferiscono a Monaco di Baviera presso uno zio materno, lo scultore Johann Baptist Straub. Ed è proprio nella bottega dello zio che Messerschmid compie il suo apprendistato. All'età di 16 anni si trasferisce a Graz presso un altro zio scultore, Philipp Straub e dopo due anni è documentato invece all'Accademia di Vienna. All'Accademia di Vienna compie il regolare corso di studi. I suoi insegnanti sono i principali scultori austriaci del momento, ovvero Jakob Schletterer e Balthasar Ferdinand Moll. Compie anche studi come avveniva regolarmente nel campo del disegno, dell'anatomia, probabilmente anche della fisionomica e poi subito dopo il diploma nel 1760 e grazie all'appoggio di quello che era il direttore dell'Accademia, ovvero il pittore di corte Martin Van Meitens che aveva riconosciuto subito il suo talento e l'aveva preso in qualche modo sotto la sua ala protettrice e riceve immediatamente importanti commissioni da parte della corte imperiale. Una serie di ritratti per le sale di rappresentanza dell'arsenale. Poco dopo, nel 1764, la stessa imperatrice, Maria Teresa, ha commissionare a Mesher Smith un suo ritratto, una statua a figura intera di dimensioni poco più grandi del naturale. Il linguaggio di Mesher Smith in questa prima fase della sua attività risente chiaramente dello stile che era in voga all'epoca alla corte di Vienna, uno stile ancora profondamente legato all'arte barocca e al rococò, quindi le sue opere erano caratterizzate da una particolare attenzione al movimento, alle torsioni della testa, del busto e al movimento dei panneggi e si caratterizzavano fin dall'inizio per una particolare attenzione anche ai dettagli decorativi che Mesher Smith riusciva a realizzare con grande abilità, con grande padronanza. Nel 1765, come tanti artisti dell'epoca, era quasi una sorta di tappa obbligatoria, compie un viaggio a Roma, si ferma sei mesi e questo viaggio sarà di fondamentale importanza per lo sviluppo successivo della sua attività e del suo stile. Una volta tornato a Vienna, infatti, negli anni successivi, il suo linguaggio cambia completamente, abbandona così il carattere enfatico, ridondante, tipico del rococò e abbraccia pienamente il nuovo stile neoclassico, profondamente condizionato dall'arte antica, in particolare, nel suo caso, dalla ritrattistica della Roma repubblicana. In cosa consiste questo cambiamento? Beh, i ritratti, i busti, perdono quasi completamente la parte inferiore che viene ridotta al minimo, vengono abbandonati i panneggi e tutte le connotazioni, diciamo, superfule, anche le parrucche che caratterizzavano in questo periodo l'abbigliamento dei personaggi e le opere diventano rigidamente frontali e anche se continua a riprodurre con grande attenzione e ovviamente le caratteristiche del volto che vengono realizzate sempre con grande naturalismo, con grande realismo. In questi anni, siamo alla fine degli anni Sessanta, Mesher Smith raggiunge l'apice della sua carriera e sembra destinato a un futuro di grande successo. Oltre alle numerose commissioni che continua a ricevere, viene ammesso all'Accademia, come membro dell'Accademia di Vienna, e addirittura viene anche chiamato a insegnare come sostituto del suo vecchio maestro Jakob Schletterer. Però, proprio in questo momento, in cui appunto la sua strada sembrava ormai segnata, accade qualcosa. A partire dal 1771 le commissioni, gli incarichi, cominciano a diminuire improvvisamente e poi nel 1774 accade una sorta di incidente di percorso. Alla morte di Schletterer, Mesher Smith non viene confermato come suo sostituto. La cosa avrebbe dovuto essere automatica e invece viene escluso dalla classe di scultura e addirittura viene proprio anche allontanato dall'insegnamento. Gli viene offerta una pensione, ma profondamente offeso da appunto il mancato incarico in Accademia, e Mesher Smith rifiuta, abbandona nei mesi successivi Vienna, vende tutte le sue cose e porta con sé solo alcune opere. Secondo gli studiosi, alcune di queste opere potrebbero essere già anche le prime teste di carattere. Fa inizialmente ritorno nella sua cittadina natale, Wiesentag, per un breve periodo, poi si trasferisce a Monaco di Baviera, dove sperava di trovare incarichi presso la corte, non va bene e quindi si trasferisce ulteriormente a Presburgo, l'odierna Bratislava, che allora era la seconda città più importante dell'Ungheria. A Presburgo Mesher Smith riprende la sua attività. Riprendono le commissioni da parte degli aristocratici del luogo e allo stesso tempo comincia, continua probabilmente, perché forse aveva già cominciato a Vienna, a lavorare ossessivamente alle sue teste di carattere. Quando muore nel 1783, ha l'età di soli 47 anni, nella sua bottega pare che ci fossero tra le 58 e le 69 opere. Questi sono i numeri che si ricavano dai documenti, dalle ventilazioni ufficiali, dai documenti relativi all'eredità, che furono tutte ereditate da suo fratello. Queste opere, come vi dicevo all'inizio, non sappiamo se erano tutte teste di carattere, forse c'erano anche altri ritratti a cui lui stava lavorando, di tutte queste opere, come vi dicevo, oggi se ne conservano solo 44, un quadro perlomeno di 44 se conosce l'ubicazione, potrebbero essercene altre in collezioni private che al momento non sono note e tra queste 44 ci sono anche le due che appartengono alla fondazione Coronini. Grazie, io però farei ancora un inciso se posso approfittare. Tanto un avviso tecnico, un problema tecnico, dovrebbero iniziare a scorrere anche le immagini che daranno conto appunto di quello che ci diceva Cristina, quindi di questo percorso assolutamente classico, con tanto di tour a Roma, di carriera all'università, o meglio all'accademia, che è un percorso. Le teste di carattere di cui premo oggi invece sono completamente a parte da questa attività pubblica su commissioni, anche importante, perché gli scultori all'epoca lavoravano su commissioni, questo è un dato importante nel presente, mentre queste teste di carattere nascono proprio come suo interesse e necessità personale. Sì, si sa che queste opere Mesh Smith le realizzava esclusivamente per se stesso, si rifiutava di venderle e per questa ragione si sono conservate tutte nella sua bottega fino al momento della morte. Ecco, questo è un elemento da tenere presente appunto all'interno di questa conversazione, perché appunto non hanno una funzione pubblica, ma strettamente privata. Io passerei al dottor Perciaccante anche chiedendogli di, così un po' come ha fatto Cristina, di spiegare un attimo i termini con i quali l'ho presentato, appunto la paleopatologia, la paleopatografia, l'icono di Agnus, insomma, di spiegarci un attimo in che modo un medico si approccia da medico a questo tipo di opere d'arte. Si sente, vero? Se no inizio a litigare subito col microfono. Allora, buongiorno innanzitutto a tutti. Sono contento perché, non so se vedi quanti ragazzi ci sono, e questo ci fa veramente piacere. Io sono qui stamattina non tanto in veste di medico, quanto più che altro per quelle che sono le passioni, che a un certo punto della mia vita ho iniziato a coltivare, che sono appunto questa paleopatologia, che altro non è che la storia delle malattie nel passato e del passato. La paleopatologia si fonda sull'analisi di fonti che sono sia dirette, in questo caso sono di solito i resti umani, e fonti indirette quali possono essere gli scritti, le biografie, opere letterarie, fotografie, dipinti, sculture, e la branca della paleopatologia che si occupa di analizzare queste fonti indirette si chiama paleopatografia. Quindi vedete, paroloni grossi, ma concetti e contenuti semplici. In realtà questa attività non è un'attività poi così semplice da svolgere, e ha una sua rilevanza, una sua importanza, perché sapete benissimo tutti quanti che la storia è fondamentale per noi, cioè conoscere il nostro passato è un dato essenziale, ci aiuta a vivere meglio il presente e a programmare anche meglio il futuro. Io ne ho avuto un chiaro esempio in questi anni di pandemia, mi sono occupato di studiare le pandemie e le epidemie del passato e ho visto che in effetti all'atto pratico non cambia assolutamente nulla. Credetemi, non è cambiato nulla, e testimone me ne è il dottor Malacrea che mi ha aiutato in uno di questi lavori. Allora, non è un lavoro semplice, perché? Perché bisogna avere conoscenze mediche, conoscenze storiche, conoscenze storico-mediche, ma anche conoscenze filologiche. Io da solo non riuscirei a fare tutto questo, in effetti di solito si lavora in gruppo. Perché vi dico anche conoscenze filologiche? Perché le parole nel corso dei secoli, nel corso degli anni, hanno anche cambiato il loro significato. Vi faccio un esempio pratico. Allora, oggi siamo a Estoria nel 2021. Ecco, io chiedo, che cos'è il fuoco di Sant'Antonio? La risposta, immagino sarà, molti mi diranno, è la riaccensione del Herpes Zoster. Allora, se io avessi posto questa domanda all'evento culturale Storia Est del 1420, mi avrebbero risposto, è l'ergotismo, cioè tutt'altra cosa. L'ergotismo era una intossicazione da fungo, un fungo chiamato dai francesi Ergot, che intossicava, diciamo, infettava, tra virgolette, la segale, dando la cosietta segale cornuta, si preparava il pane, si assumeva questa sostanza e comparivano delle lesioni cutanee che il dottor Moise sicuramente avrebbe riconosciuto immediatamente, oltre che dare episodi convulsivi. Ma vi cito questo perché voglio farvi capire come bisogna conoscere la storia, la storia medica, la storia delle parole, perché tutto cambia. Questo, mi fermo. Allora, nell'affrontare, appunto, nel fare l'anamnesi, appunto, a Messerschmitt, a quali fonti si è riferito, ha potuto utilizzare? Sì, ovviamente chi si occupa di paleopatografia che ha un risvolto interessante, la cosa più simpatica è quella di riaprire i cosiddetti cold cases, cercare di capire la causa di morte oppure le patologie dei personaggi del passato. Ed è inevitabile affascinarsi a un personaggio unico nel suo genere come Messerschmitt. Allora, le fonti non sono tantissime. In realtà, una è quella principale che è questo racconto che l'editore e scrittore tedesco Nicolai fa di questa visita che lui fece a Messerschmitt nel 1781 quando si trovava a Bratislava. Ma prima ancora c'è un altro dato interessante che è una lettera che il cancelliere di Stato Kaunitz scrisse all'imperatrice Maria Teresa. E adesso vi sintetizzo i dati interessanti, se volete, della paleopatografia, della patografia di Messerschmitt. Come diceva Cristina prima, c'è un punto di rottura nella sua vita. Nel 1771 accade qualcosa e lo sappiamo perché inizia a ricevere meno commissioni. Che cosa può essere successo? Vediamo piano piano di ricostruirlo. Allora, tre anni dopo, nel 74, come è stato già detto, muore il titolare della cattedra di scultura all'Accademia delle Belle Arti a Vienna e il posto resta vacante e si presentano in quattro candidati. Il candidato favorito, i bookmakers lo darebbero a uno su 1.1, è Messerschmitt. Non ha rivali all'epoca a Vienna. Però che succede? Succede che la commissione che si riunisce apprezza e ne loda le capacità tecniche, l'estro, però non lo ritiene idoneo. Non lo ritiene idoneo con questa motivazione che mi sono scritto e vi leggo. Dicono, la sua ragione occasionalmente sembrava soggetta a pazzia e quindi già abbiamo un dato. Succede qualcosa quindi nella psiche di Messerschmitt che porta gli altri a considerarlo tra virgolette pazzo. Allora, a questo punto nessuno degli altri tre candidati viene ritenuto idoneo e la palla passa all'imperatrice Maria Teresa. Prima di prendere una decisione interviene il cancelliere di stato Kaunitz che scrive una lettera il 5 dicembre del 74 alla imperatrice dove le spiega che cosa è successo e perché non è stato scelto Messerschmitt. Perché l'imperatrice tra l'altro stimava moltissimo tanto da avergli commissionato alcuni busti. Allora, in questa lettera Kaunitz dice anche lui testa e loda le capacità tecniche artistiche di Messerschmitt però anche lui dice e vi leggo perché è importante non viene ritenuto idoneo perché negli ultimi tre anni quindi dal 1771 quando c'era il famoso punto di rottura ha un po' di confusione mentale lo dice in maniera molto delicata ma poi continua e dice questo stato di confusione mentale adesso sta migliorando lui è ripreso a lavorare riceve commissioni sta lavorando però attenzione di tanto in tanto ecco la definisce così ha una malsana immaginazione che non è chiaro se si riferisca a un atteggiamento paranoico cioè la paura di essere la convinzione di essere perseguitato da qualcosa probabilmente dai suoi stessi colleghi dell'accademia o se quella malsana immaginazione si riferisse a delle allucinazioni e adesso vedremo che succede succede come ha detto Cristina la imperatrice non approva non dà diciamo ecco la cattedra a Messerschmitt è d'accordo con quando è stato stabilito Messerschmitt si offende rifiuta la proposta della pensione gira un po' e arriva a Bratislava dal fratello che era un altro scultore Johan Adam e qui abbiamo notizie di un Messerschmitt che riprende a lavorare riprendono le commissioni ma di un personaggio che dai nipoti è definito abbastanza irascibile ma anche molto che vive in maniera quasi isolata e durante questo suo soggiorno in una lettera anzi che preannuncia il suo arrivo a Bratislava scrive al fratello che porterà con sé venti busti probabilmente aveva già iniziato anzi sicuramente aveva già iniziato a scolpire le teste di carattere a questo punto facciamo un salto e arriviamo al giugno del 1781 quando questo scrittore ed editore berlinese Nicolai si trova a Bratislava e va a trovare Messerschmitt e descrive ci racconta in maniera dettagliata questa visita che ha fatto e ci dà tutta una serie di nozioni che sono interessantissime per capire il suo stato di salute innanzitutto lo descrive come una persona molto che vive isolata una persona che è solo dedita all'arte è una persona che è gelosissima ed è fermamente convinto della sua castità sin dalla gioventù in più ci dice anche che quando va a trovarlo era abbastanza allegro gioviale e descrive questo suo isolamento questo suo vivere con poco descrivendone la casa vi leggo la descrizione brevemente che fa dice che la sua casa e i beni di Messerschmitt erano semplicemente un letto un flauto una pipa una brocca d'acqua e un vecchio libro italiano probabilmente acquistato a Roma immagino durante il suo viaggio sulle proporzioni del corpo umano attenzione sulle proporzioni del corpo umano memorizzate questo perché sarà fondamentale e in più descrive la presenza di un disegno un disegno particolare è un busto egizio senza braccia che lui tiene attaccato alla finestra e che guarda sempre con ammirazione e timore reverenziale io adesso chiedo a voi che siete gli esperti probabilmente avrà influenzato anche quello poi la nascita delle tesse di carattere il modo di scolpirle non lo so poi magari c'è una testa in particolare che ha uno stranissimo copricapo o parrucca non si capisce bene quasi una testa deforme che sembra proprio indossare un copricapo egizio e quindi questo è stato messo in relazione con questo disegno o perlomeno comunque con la conoscenza da parte di Mesher Smith dell'arte egizia che tra l'altro in quel periodo si stava appunto riscoprendo diciamo da parte appunto degli artisti e anche degli storici in questo senso era proprio aggiornato anche sulle dinamiche europee ecco non era al di fuori dei come dire del contesto artistico dell'epoca ma lo seguiva e anche in anticipo in un certo senso ne faceva parte sotto tutti i punti di vista sì e continuo riprendo con la descrizione che fa Nicolai ci parla di un personaggio paranoico e ci dice era paranoico per le moltissime vessazioni e ingiustizie che gli erano state fatte si riferisce alla storiaccia dell'accademia della cattedra di scultura e poi ci dà un dato che secondo me è interessante perché alcuni storici contesteranno la come dire l'autenticità la veridicità delle informazioni che Nicolai dà quando ci dice che durante gli anni di vita a Vienna Messerschmitt frequentava dei personaggi un po' ambigui dei personaggi chiedo scusa dei personaggi che erano convinti di parlare con gli spiriti e che riuscivano a soggiogare le forze della natura poi qual è l'altro dato interessante che emerge emerge il dato che Messerschmitt avesse delle allucinazioni e lo dice lui stesso nel suo racconto dice di vedere degli spiriti in modo particolare fra questi spiriti ce n'è uno che gli dà molto molto fastidio che è lo spirito della proporzione ricordatevi che ho detto il libro sulla proporzione perché la proporzione sarà importantissima in Messerschmitt in più Nicolai ci dice soffriva di dolori addominali e alle gambe precisamente più che le gambe alle cosce e allora vi racconto come spiega Messerschmitt questa cosa Messerschmitt dice mentre lui scolpiva i busti avvertiva dei dolori all'addome o alle cosce e secondo lui c'era una corrispondenza tra il punto del viso che lui stava scolpendo e il punto della coscia o dell'addome che gli faceva male ma perché aveva questi dolori i medici come al solito poi si sono divertiti a fare le diagnosi più astruse tipo malattia infiammatoria intestinale ma in realtà non c'è nessun elemento per cui si possa fare una diagnosi vera e cosa dice dice che questi dolori venivano inflitti a lui da questo spirito delle proporzioni perché perché Messerschmitt studiava la proporzione e mano a mano che acquisiva conoscenze e si avvicinava verso la perfezione irritava lo spirito lo spirito gli infliggeva i dolori ma lui aveva capito che per soggiogare lo spirito doveva continuare a scolpire e raggiungere la perfezione e quindi lui continua a scolpire queste teste che all'arrivo di Nicolai ne descrive 60 e la 61esima la stava scolpendo in realtà dovrebbero essere in tutto 66 teoricamente Messerschmitt sempre secondo quanto riporta Nicolai parla di 64 tipi di espressione che lui voleva fermare in qualche modo attraverso le sculture nella pietra o nel metallo e quindi diciamo che si pensa che quello fosse il numero totale probabilmente non non arrivò a completarlo anche perché lui stesso diceva che è vero che le realizzava solo per se stesso ma sempre a Nicolai ne confida che in realtà avrebbe anche voluto venderle tutte per poterle poi rifare tutte da capo in maniera ancora migliore grazie io dicevo 66 perché dovevano essere le 64 delle espressioni che secondo Messerschmitt erano le espressioni di un essere umano più le famose due a becco ma poi le nomineremo in seguito allora da cosa nascono perché nascono le teste di carattere avete capito c'è questo spirito che lo perseguita lui ha queste allucinazioni lui deve raggiungere la perfezione allo spirito questo non va bene lui continua a scolpire per soggiogarlo ma come fa a scolpire perché scolpisce quelle espressioni come fa allora facela in questo modo si infliggeva dei pizzicotti si infliggeva dolore soprattutto nella parte destra del corpo e lo faceva davanti a uno specchio in modo tale che in risposta al dolore che provocava assumeva delle espressioni che memorizzava e poi riportava nelle sue sculture stando molto attento alla proporzione ok questo è il racconto che fa Nicolai e questa è la nascita delle teste di carattere secondo Nicolai allora cosa ci vede un medico in tutta questa storia c'è stato chi ovviamente ci ha pensato prima di me perché è normale che sia così ed è stato uno psicanalista Chris il quale scrisse un trattato in cui arrivò a diagnosticare la schizofrenia Messerschmitt io ho rianalizzato tutto quello che vi ho raccontato alla luce delle conoscenze di oggi alla luce del DSM quinto che non è una parolaccia ma è la bibbia della psichiatria il manuale che ci dice quali sono le caratteristiche che una data patologia psichiatrica deve avere e aiuta nella diagnosi io vi anticipo che tutte le diagnosi del passato non possono mai essere certe quelle più vicine alla verità sono quelle che si fanno sui resti umani quindi sono solo ipotesi ma ipotesi molto molto fondate perché che cosa c'è della schizofrenia in Messerschmitt ci sono diversi aspetti innanzitutto ci sono segni di psicosi c'è questa perdita di contatto con la realtà abbiamo le allucinazioni abbiamo i deliri il delirio paranoico non c'è una disorganizzazione di linguaggio perché questo non lo sappiamo non c'è una demenza almeno non sembra essere presente però c'è un appiattimento forse delle affettività il suo voler ritirarsi a vivere da solo e allontanarsi un po' dalla società quindi io personalmente per quello che possa valere ho fatto un lavoro in tal senso che è stato poi pubblicato su American Journal of Psychiatry approvo la diagnosi di Chris nel senso che se proprio devo scegliere una patologia psichiatrica che si cucia bene attorno a Messerschmitt è la schizofrenia però non è stato tanto quello che mi ha colpito c'è altro mi ha colpito più che altro il ruolo che l'arte aveva per Messerschmitt allora riviviamolo un attimo insieme allora lui è perseguitato dallo spirito giusto? lo spirito si irrita perché lui vuole raggiungere la proporzione come fa lui a soggiogare lo spirito? continua a scolpire quindi Messerschmitt è un chiarissimo esempio di arte con un ruolo apotropaico con un ruolo terapeutico cioè affronta la sua malattia con l'arte Chris sostiene anche che sia la schizofrenia a aver portato avanti e aver alimentato l'arte di Messerschmitt questo è parzialmente vero perché allora non è solo la schizofrenia che rende Messerschmitt un artista lui lo era tecnicamente era bravissimo avete sentito quanti studi aveva fatto perché altrimenti varrebbe la regola per cui ogni paziente affetto da ogni persona affetto da una patologia psichiatrica è un artista o viceversa varrebbe quella frase che si usa tanto tutti gli artisti sono folli in realtà poi bisognerebbe vedere il significato della parola follia perché spesso viene confusa con la creatività sicuramente la sua patologia psichiatrica ha avuto un ruolo perché probabilmente non ci sarebbero state le teste di carattere se lui non avesse avuto queste allucinazioni però dire che solo quello ha reso lui un artista è un'esagerazione anche perché in medicina si è studiato tanto questa relazione tra le malattie psichiatriche e la creatività e se voi fate una ricerca troverete che metà dei lavori sostengono che la schizofrenia il disturbo bipolare la depressione maggiore si associano a una maggior genialità una maggior creatività per contro l'altra metà sostiene che questo non è assolutamente vero quindi la nascita dell'arte la creatività è un percorso molto 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 complesso e non può essere ridotto assolutamente a uno stimolo dato da una patologia ecco sì mi ricollego quello che ha detto la Cristina inizialmente che molto probabilmente queste immagini ci avviciniamo al loro significato ma al momento rimarrà recondito nel senso che mi chiedo mi viene da chiedermi che interpretazione avremmo dato noi se non avessimo avuto la lettera al fratello la lettera di Kaunitz e soprattutto il resoconto di Nicolai dove si parla in generale appunto anche di malattia e non di pazzia di immagini che sono poi una caratteristica tipica degli artisti nel senso che vedono l'immagine è un talento che gli è dato per fortuna o per sfortuna insomma mi colpisce appunto in questi testi di carattere l'assoluta sorveglianza della forma della tecnica e anche questa progettualità e quindi sono elementi che uno collega con l'aspetto appunto razionale della persona che è capace di impostare gestire un lavoro e così via e ricordiamoci sempre che in parallelo continuava a avere appunto commissioni importanti non erano quelle della corte di Vienna ma comunque dell'ambito aristocratico alto elevato dell'odierna Bratislava Presburgo che dir si voglia insomma e quindi concordo appunto con questa come dire anche prudenza nel dare appunto dei giudizi solo da un lato da un punto di vista e invece sul non so se vorrei intervenire su questo invece un altro parere che mi sovveniva appunto sull'arte come terapia proprio spostandoci proprio di secoli in avanti e di tutto un altro ambito è quello di Arturo Nathan dove sappiamo che invece aveva proprio frequentato lo studio di Edoardo Weiss a Trieste siamo nel primo dopoguerra e gli era stato proprio consigliato come terapia di iniziare a dipingere in quel caso e ne è nato da un trauma con quello della grande guerra ne è nato un artista assolutamente anche qua enigmatico anche qua spesso diciamo portato sul letto del psichiatra e non come dire affrontato da un punto di vista artistico ma quello che volevo dire è che la cosa che mi colpisce appunto un parallelo con Messerschmitt sono l'insistenza sugli autoritratti e questa possiamo dire così maniacale precisione sull'autoritrarsi quindi questo bisogno di come dire indagare proprio scavare all'interno di sé che poi è il fondamento dell'art therapy l'art therapy tra l'altro siamo nel posto giusto perché in Italia arrivano in 1940 a Genova e la portano due persone sono un artista e un medico Claudio Costa è l'artista e il medico era Antonio Slavitz che era un allievo di Franco Basaglia creano questi primi laboratori di art therapy e l'art therapy ve la sintetizzo ha un triplice obiettivo uno serve a migliorare la comunicazione del paziente perché comunque è una forma di comunicazione l'arte due aiuta a riconoscere le emotività del paziente e tre aiuta ad avvicinarsi al proprio disagio quindi mi collego con quello che dici tu questa ossessione per i ritratti è molto probabilmente perché lui fa un viaggio all'interno di sé stesso e si confronta con i propri disagi con le proprie emozioni e io approfitto di questo perché c'è un altro esempio molto interessante e si collega proprio al luogo nel quale siamo nel 2019 abbiamo dedicato un'ampia retrospettiva a Sergio Scabar che è un fotografo che poi è defunto in quello stesso anno e lui nel 76 fa un servizio all'ospedale psichiatrico noi in questa palazzia nel canton quella subito successiva fa un fotoreportage di di una festa natalizia lo fa molto così in punta di piedi non ha come dire l'intento di denuncia sociale come il documentario di Zavoli sui giardini di Abele o il libro di Berengo Gardina appunto sui speciali psichiatrici però è interessante che due anni dopo lui fa lo stesso lavoro si autoritrae fotograficamente e interviene a posteriore appunto sulle fotografie con strappi lacerazioni tagli oppure oppure chimicamente in fase di sviluppo della fotografia appunto con solarizzazioni polarizzazioni e via discorrende insomma c'è questo legame molto forte con il volto insomma l'autoritrarsi insomma quando ci si incontra con questo mondo chiamiamolo così insomma ai limiti insomma della dell'assoluta mentale non so se posso esprimermi in questo modo ecco se è pertinente però rimane appunto sullo sfondo questo discorso sulla sull'approccio appunto cauto quando ci si avvicina a queste opere appunto lontane nel tempo dove non avessimo appunto i dati documentari non so in che modo si sarebbe potuto interpretare queste teste di carattere tant'è che hanno una storia del tutto particolare come a livello di diremmo noi oggi fortuna no? Sì in effetti possiamo avere un'idea di quella che è stata la ricezione delle opere di Meschismith prima che venissero messi in evidenza questi documenti la storia delle opere di Meschismith è quasi interessante quanto la vicenda biografica dell'artista stesso e come si diceva dopo la sua morte tutte le sue opere furono ereditate dal fratello che probabilmente le vendette forse in un primo momento vendette singole teste e poi vendette invece a un'unica persona un nucleo di 49 teste e queste dieci anni dopo la morte di Meschismith nel 1793 furono esposte per la prima volta in un luogo molto particolare non diciamo in un contesto propriamente artistico ma all'ospedale civico di Vienna perché? perché non erano propriamente considerate delle opere d'arte erano considerate degli oggetti curiosi degli oggetti che dovevano suscitare meraviglia stupore che dovevano far ridere la gente e proprio per questo l'esposizione fu accompagnata anche da una brochure scritta da un anonimo che non è stato identificato e in questa brochure per la prima volta le opere di Meschismith vennero definite con la denominazione con cui ora noi oggi le conosciamo teste di carattere in realtà Meschismith non usava assolutamente questa definizione per che lui le chiamasse semplicemente teste coffe quindi vengono esposte per la prima volta vengono chiamate teste di carattere e soprattutto in questa brochure vengono loro attribuiti i titoli che tuttora oggi li accompagnano sono titoli che volevano suscitare appunto ironia divertimento sono titoli che non hanno nulla a che fare con le opere stesse nulla a che fare con le reali intenzioni dell'artista ma sono titoli che in mancanza di altro ancora oggi gli storici dell'arte continuano a utilizzare le teste queste 49 teste continuarono poi a essere vendute sempre tutte insieme nel 35 vengono di nuovo esposte e nel 1839 in un supplemento della rivista Der Hadler viene pubblicato una monografia su Mesh Smith viene ristampato praticamente l'opuscolo già pubblicato nel 1793 con l'aggiunta di una litografia che forse avete visto passare sullo schermo in cui sono raffigurate tutte le 49 le teste queste opere rimasero per tutto l'Ottocento insieme poi nel 1889 invece furono vendute separatamente e a quel punto si compì diciamo la dispersione l'aspetto delle 49 teste che appunto per oltre un secolo rimasero insieme ci è noto grazie alla litografia che vi ho appunto menzionato ma anche grazie a delle copie che furono realizzate all'inizio dell'Ottocento per volontà del principe di Liechtenstein che faceva fare dei calchi di tutte le 49 le teste dei calchi in gesso ricoperti poi da una vernice scura e nel 1906 queste copie furono anche fotografate per cui diciamo che abbiamo importanti testimonianze iconografiche anche delle opere che sono andate perdute che perlomeno al momento non sono state rintracciate voglio ricordare subito che le due teste della fondazione coronini non sono inserite in queste 49 opere che appunto per tutto l'Ottocento viaggiarono insieme ebbene proprio nel momento in cui le opere di Mesher Smith vengono disperse alla fine dell'Ottocento comincia invece a nascere un interesse artistico nei loro confronti e alcune di queste teste infatti vengono acquistate dalla scuola di arti applicate di Vienna da uno degli insegnanti Camillo Sitte come materiale in realtà come materiale didattico ancora in realtà la riscoperta la vera riscoperta di Mesher Smith come artista avviene appunto tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento grazie ai movimenti di avanguardia cambiano diciamo i canoni estetici quelle che erano considerate un repertorio del brutto in qualche modo vengono invece rivalutate e considerate delle opere estremamente moderne da questo punto di vista Mesher Smith viene quasi considerato un anticipatore dell'espressionismo una valutazione che poi in realtà insomma va presa con diciamo con moderazione perché di fatto le opere di Mesher Smith sono sotto ogni punto di vista come già si diceva opere del suo tempo opere della fine del Settecento di un contesto ancora legato al neoclassicismo in cui però viene sviluppato in realtà un aspetto più oscuro più diciamo inquietante la ricerca appunto dei lati più oscuri dell'animo umano che è condivisa da altri artisti di quel periodo o del periodo immediatamente successivo comunque dell'epoca neoclassica basti pensare a Goya alle opere di Goya a William Blake anche a Fursley quindi diciamo sono c'è una componente questa componente che è considerata appunto così moderna e innovativa dell'opera di Mesher Smith in realtà è comunque una componente che si collega ad altre espressioni artistiche della sua della sua epoca e poi appunto la grande nel momento in cui comincia a essere studiato nuovamente Mesher Smith si cercano anche appunto le prime spiegazioni al significato delle sue teste di carattere e uno dei primi studiosi alla fine dell'ottocento Albert Hill le mette in correlazione con le pratiche ad esempio di un medico viennese Franz Anton Messner che praticava una terapia forse ne sa di più il dottor Perciacante basata sul magnetismo animale e faceva queste strane pratiche con magneti con corde e in effetti ci sono dei dettagli in alcune teste di carattere di Mesher Smith che gli storici non sono assolutamente stati in grado di spiegare perché alcune di queste teste presentano ad esempio delle corde una intorno al collo una intorno alla fronte altre teste presentano invece delle strane fascette sulla bocca e oggetti che non sono stati chiaramente identificati secondo alcuni potrebbero essere i magneti che appunto usava Messner non so se vuoi aggiungere qualcosa le famose corde magnetiche di di Messner che praticamente sapete benissimo che nel periodo siamo nell'illuminismo parallelamente si sviluppano tutta una serie di pseudoscienze tra cui il mesmerismo così chiamato per Messner detto anche magnetismo animale si pensava ci fosse un fluido presente in natura che permeava i vari corpi i corpi sani si facevano permeare da questo fluido i corpi malati erano impermeabili Messner sosteneva che lui era in grado di risolvere migliorare far guarire questo stato di malattia applicando queste sedute di magnetismo animale erano delle veri e propri riti c'era musica ci si legava con queste corde si connettevano queste corde a degli oggetti ovviamente a un certo punto viene mandato via da Vienna perché sì Messner perché insomma diciamo era poco scientifica la sua la sua attività e forse si conobbero ma di questo non sappiamo nulla perché sembra che forse hanno vissuto nello stesso quartiere Messner sicuramente si conobbero perché gli ha fatto il ritratto Messner ha fatto il ritratto quindi non solo erano vicini di casa ma sicuramente sono stati in contatto e secondo molti Messner potrebbe aver partecipato a queste sedute a queste terapie che Messner forse erano le famose frequentazioni un po' particolari a cui si riferiva Nicolai infatti nella sua opera insomma solo per concludere poi ci è voluto un personaggio anche sui generis come il Conte Guglielmo per far arrivare le due teste di carattere a Gorizia diciamo che sì è stato è stato un acquisto quello del Conte Coronini assolutamente azzeccato in un'epoca in cui la fama di Messner Smith cominciava a risalire ma non chiaramente ai livelli odierni e basti pensare che il famoso saggio di Ernst Chris a cui accennava prima il dottor Perciacante che è questo testo fondamentale per l'interpretazione dell'opera di Mesh Smith e la diagnosi di schizofrenia è del 32 Guglielmo Coronini acquista le due opere nel 37 le acquista da una sua cugina Eleonora Palfidaun nata Nugent e questo spiega probabilmente anche la provenienza e l'origine delle teste conferma anche della loro originalità perché quando Mesh Smith si trasferisce a Bratislava acquista una casa nel borgo di Zuckermandel che apparteneva ai conti Palfi che era una delle famiglie nobili ingheresi più importanti e potenti e proprio un discendente a un discendente dei Palfi il conte Vilmos Palfidaun era legata alla cugina del padre del conte in realtà appunto Eleonora e quindi le due teste probabilmente furono rimasero erano rimaste nelle collezioni dei Palfi fin dal periodo probabilmente immediatamente successivo alla morte di Mesh Smith forse furono vendute direttamente dal fratello come vi dicevo infatti non sono comprese nelle 49 teste che sono rimaste insieme per oltre un secolo nel 37 Eleonora Palfidaun scrive a Guglielmo Coronini perché aveva intenzione di vendere queste opere che considerava comunque di pregio e chiede consiglio perché sapeva che lui frequentava antiquari e comunque le cerchie storici dell'arte e non sappiamo quale sia stata la risposta di Guglielmo perché non ce l'abbiamo ma sappiamo che due anni più tardi lui le acquistò e le acquistò tra l'altro per una cifra assolutamente ridicola considerato il valore che hanno oggi le opere le pagò 2000 ascellini ho cercato su tabelle varie la conversione meno di 10.000 euro attuali quindi veramente una cifra veramente bassa se si pensa che adesso l'ultima che si è passata all'asta due milioni di dollari insomma quindi diciamo siamo molto lontani e questo è stato un acquisto assolutamente felice e dimostra anche appunto comunque la competenza in questo caso anche la preveggenza del conte coronini sì noi siamo arrivati a conclusione non so se la casa prevede qualche domanda da parte del pubblico no bene io concluderei qui con questa avventura veramente straordinaria che capita spesso e volte agli artisti che per un certo verso confermano questa fama che giunge dopo la morte travalica ai secoli ma e dall'altro conferma anche come dire la necessità appunto degli artisti o di affrontare appunto gli artisti non solo come gente che ha un po' di pazzia come vale appunto nell'immaginario collettivo ma anche persone che in realtà hanno ben chiare le idee per qualsiasi ragione insomma ma comunque hanno anche una chiara progettualità hanno chiare capacità anche tecniche esecutive insomma che appunto non si lega semplicemente a questi fattori razionali ma c'è sempre una componente razionale anche molto molto importante forse questi due elementi adeguatamente miscelati creano veramente l'arte e la fanno affascinante ancora oggi a distanza appunto di 300 anni stiamo ancora qui a discutere a dimirare questi beni e siamo fortunati ad averne due a Gorizia appunto la fondazione Coronini grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti